Prima di chiudere vogliamo invece dedicare la chiusura a una notizia della cronaca di Teramo che abbiamo volutamente saltato proprio per dedicarci la chiusura. Guardate qua, dramma a Silvi, inutile il ricovero in ospedale. Leucemia fulminante, muore a 23 anni. Il giovane studiava lettera alla d'annunzio, aveva la passione della musica, suonava a basso e chitarra in due gruppi. L'ultimo appello, subito prima della morte, le amiche hanno esortato la collettività religiosa della città a creare gruppi di preghiera per lui. Lui è Danilo Pomante, 23enne di Silvi e a piangerlo ovviamente è non solo la comunità di Silvi e genitori ma tante persone che lo conoscevano perché, come vedete, amava la musica. Una delle cose che viene sottolineata era il suo amore profondo per la musica e allora noi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di conoscerlo e vogliamo salutarlo così con una canzone insieme ai suoi amici dove si parlava di un viaggio. Questo era il dicembre 2011 e in questa esibizione lui si esibiva gratuitamente per fare una raccolta fondi per un'associazione che si occupa di leucemia per i bambini. Allora noi salutiamo così Danilo. Ciao! Si godano il buon viaggio e quindi buon viaggio a tutti L'accio DRO! 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 Grazie a tutti.